Dal 20 al 24 marzo lo spettacolo del calcio a 5 è in Emilia-Romagna. In campo le migliori squadre di Serie A maschile e femminile che si sfidano per la Final 8 di Coppa Italia di Futsal. Le finali sabato 23 e domenica 24 al Palacattani di Faenza. Vai sul sito faenza2019.it, scopri il programma degli incontri e acquista subito il tuo biglietto. Per le donne, gli under 16 e gli over 65 l'ingresso è gratuito. Final 8, Coppa Italia Futsal 2019. I campioni e lo spettacolo del calcio a 5 ti aspettano in campo.